Ehi, dove hai un uvetto fresco? Eh no, no, grazie. Sei cazzo in un marito. Che stai scrivendo? Ah, è una canzone, però ancora non ci sta la musica. Posso vedere? Grazie. Ma che vi siete mangiati? In un marito. Ah, e dove? Un ristorante. Tu pure? No, che sei pazzo, entrano al ristorante, la sfido, no? Ah. Eh, bella. Hai scritto tu? Sì. Beh. Beh, bellissima. Posso copiarla sul quadrano mio? Com? Te la porto subito. Saluto! Oh! 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.it Il nostro corso gratuito www.mesmerism.it Il nostro corso gratuito www.mesmerism.it E se permettete pure a Gian Maria Volondè Simbolicamente spargo questo nettere sul pavimento del tuo terrazzo Simbolicamente? Dico, ce lo dobbiamo bere, no?